Stasera di Nadia per la causa di questa, dovrò sostituirla io, mi sono certo all'altezza, però insomma ci provo. Innanzitutto ringraziamento doveroso a tutte le attività di Cedie Messabrica che hanno aderito all'iniziativa. No, un ringraziamento all'amministrazione, l'assessore all'attività di Cedie Messuale, San Toro, se passo a te per il saluto e poi io concludino. Grazie, buonasera a tutti. Siamo giunti all'uncesima edizione di questa manifestazione. Quindi, come dicevo prima, tutte le volte che delle cose positive sono sul territorio, noi le sposiamo, quindi promuoviamo queste cose affinché i cittadini e i negozianti possano aggiorarsi di queste manifestazioni. Passo la parola a Maria Andra. Ringraziamento anche al funzionario della Camera di Commercio di Prindisi, Ingegner Canefato. Buonasera. E a tutto lo stato naturalmente di collaboratori che ha partecipato e ha collaborato alla realizzazione dell'evento e del concorso. Procediamo subito, allora, come da regolamento procediamo all'estrazione a mano delle sfere dopo averle mescolate e effettuate da bambini scelti da funzionario della Camera di Commercio. Si può procedere? Ok, allora procediamo con l'estrazione partendo dai premi minori, fino al primo premio. Ok, sì, sì, sì. Infatti la prima estrazione sono i 10 buoni sconto per corsi amatoriali della MedCookie School. Ok, quindi questi sono premi a parte. Ok, perfetto. Possiamo procedere con questo e ringraziamo anche la MedCookie School per aver offerto questi 10 buoni sconto. Grazie. 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 otto cinque cinque allora il buono sconto per il corso di cucina primo foglietto astratto è A7855 lettera D numero sette numero quattro numero cinque numero quattro allora il secondo buono sconto è lettera D7454 lettera C numero quattro zero zero nove allora terzo buono sconto C 4 zero zero nove lettera D numero numero tre tre secondo numero 9 1 Allora, quarto buono sconto di 3391 Lettera C Numero 7 Numero 1 Numero 5 Numero 6 Quinto estratto di buono sconto C7156 Lettera D Numero 6 Numero 5 Numero 9 Numero 9 Allora, il biglietto è da diritto al buono sconto per il corso di cuscina Sesto è D6599 Lettera F Numero 6 Numero 8 Numero 5 Numero 6 Numero 6 0 quindi F8150 lettera A numero 5 numero 8 numero 9 numero 9 numero 1 allora A 58 91 no con lo sconto lettera D numero 6 numero 9 numero 2 numero 5 numero 5 allora D6925 questo è l'ultimo buono sconto che è strano lettera A numero 5 numero 5 numero 5 numero 9 numero 5 numero 5 numero 5 allora l'ultimo buono sconto A4595 allora dopo la premiazione le stracere di più di 10 che togriamo erano fuori del costo e corrispondenti in 10 buoni sconto per forse amatoriali offerti dalla metto di school del valore di 30 euro iniziamo invece con l'estrazione dei premi invece in concorso e sono quindi iniziamo con 20 premi da 100 euro in buoni spesa da consumarsi presso tutte le attività aderenti da 100 lettera B numero 9 numero 9 secondo numero terzo numero 1 quarto numero 6 quindi il biglietto vincente e da diritto a un buono spesa di 100 euro il primo è B9916 secondo biglietto lettera estratta B numero 2 7 7 7 7 8 8 8 9 8 10 10 10 10 8 8 8 8 8 il biglietto è 2788 terzo numero 1 terzo numero 1 terzo numero 1 100 euro la lettera lettera G numero 1 8 numero 1 8 8 5 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 Adesso, a meno che non escano due zeri, bisognerà ripetere l'operazione perché il biglietto non è stato dato, è stato riferito. Quindi facciamo l'estrazione perché se dovessero uscire due zeri adesso è stato stato. Ecco, uno, quindi, vabbè, estraiamo e non è valido perché non è stato assinato. Questa estrazione non è valida. Ripeto, siccome i biglietti sono stati dati fino alla lettera G, come numerazione 8500, tutti i biglietti che superano la G di 8005 non possono essere assinati perché non è stato consegnato. Lettera D Numero 3 Numero 1 Numero 6 Numero 6 Quindi il terzo bonus spesa del donore di 100 euro di 3166 Lettera A Numero 6 Numero 4 Numero 6 Numero 6 Numero 6 Numero 6 Numero 6 numero 6 il biglietto vincente è a 45.16 lettera C primo numero 5 9 9 due due quindi il biglietto vincente è C5922 lettera B numero 0 numero 2 numero 5 numero 5 numero 6 quindi il sesto premio è un biglietto buono di un buon 100 euro B0256 il sesto premio è un biglietto buono di un buon 100 euro settimo premio è un biglietto buono di un buon 100 euro lettera B numero 6 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 numero 7 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 numero 6 il biglietto conoscente è B0506 lettera C numero 8 numero 4 numero 7 numero 5 il biglietto C 8475 lettera D numero 8 numero 5 numero 1 numero 2 riglietto vincente 8 5 1 2 lettera A numero 8 numero 3 numero 7 numero 7 quindi il decimo cuore che dà diritto ad un premio di 100 euro a 8 3 7 7 altri 5 bambini se vogliono una difficile camminare a 8 a 8 a 9 a 9 a 9 Grazie. Grazie. La lettera A. Numero 2. Numero 4. Zero. Numero 4. Numero 4. Numero 4. Dietro vincente A2404 Lettera G Numero 1 Numero 7 Numero 6 Numero 1 Quindi il biglietto è G1761 Lettera E Numero 2 Numero 1 Numero 5 Numero 8 Numero 8 E2158 Lettera B numero 6 numero 6 numero 9 numero 5 quindi B6695 lettera G numero 2 numero 2 numero 2 numero 1 numero 2 numero 2 numero 2 numero 2 numero 2 lettera B numero 7 7 7 vediamo se ci riesco a prendere l'altro 7 2 detto vincente B 7 7 7 2 lettera G 7 7 7 7 5 1 allora il biglietto di 100 è G7751 lettera D numero 4 numero 7 0 6 quindi D4706 lettera P 1 0 numero 5 numero 4 numero 6 quindi il biglietto di 100 è B0546 l'ultimo premio da 100 euro lettera B numero 2 numero 2 numero 1 numero 5 numero 5 numero 9 il biglietto di 100 è B2159 numero 5 numero 5 numero 5 Allora adesso passiamo all'estrazione dei premi dei buoni, da voi 500 euro. Se ci sono altri 5 bambini che vogliono vicendarsi, qualcuno che non è mai venuto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il primo biglietto da 500 euro è F1348. Grazie a tutti. Numero 7. Numero 8. Numero 1. Numero 2. Quindi l'altro premio da 500 euro è G7812. Ora estraiamo il terzo premio da 500 euro. Vai con la lettera F. Lettera F. Numero 6. Numero 0. Numero 0. 5. 5. Il biglietto è F6. Quindi il biglietto è F6005. l'ultimo premio da 500 euro. Allora l'ultimo premio da 500 euro è la lettera F. numero 5. Numero 5. Numero 5. 5. Di nuovo 5. 5. 6. Il biglietto è F6. Il biglietto è F6. 5. Il biglietto è F5. 5. 5. 2. 0. L'ultimo premio da 500 euro. Adesso passiamo al premio da 1000 euro. e si avrei anche in seguitoorthia. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta. allora passiamo all'estrazione della lettera lettera B questo è quello di 1000 euro purtroppo ogni tanto qualche bussolotto si apre quindi bisogna vedere più numero 4 numero 6 numero 6 numero 1 allora il premio da 1000 euro lettera B4661 ora abbiamo cambiato? adesso il premio da 2000 euro lettera B numero 6 numero 6 numero 6 numero 7 numero 7 numero 7 numero 8 numero 8 numero 7 Allora, l'ultimo premio, cioè il più grosso, quello del 1000 euro. La lettera, la lettera, lettera G. Numero 3. Numero 2. Numero 4. Numero 1. Il primo premio, quello da 3000 euro, il biglietto G3241. Numero 3. Allora, saluto tutti e mi amico semplicemente che tutti i numeri che saranno presenti sul sito c'è l'esilismo a partire da domani. Buonasera, grazie.